Terzo classificato qui alla corsa di Pessano Luca Lockmans, una bella corsa con una fuga che l'ha caratterizzata, sei soddisfatto del tuo terzo posto? Sì, c'era un nostro compagno in fuga, poi si è staccato e grazie a Gabriele e a Gibertini si è riusciti a riprendere qualche duro. Per l'arrivo hai fatto il massimo o hai qualche rimpianto per la prima posizione? Ho preso la volata un po' troppo indietro, se no potevo fare un po' meglio. Invece per quello che riguarda la corsa, com'è andata e se si poteva magari ci inserirsi anche meglio e tenerla fino alla fine, la fuga decisiva? Non riuscivo a pedalare tanto bene perché avevo un po' di mal di gambe, però poi gli ultimi chilometri mi sono sbloccato. Adesso voi arrivate dalla Liguria, quindi siete soddisfatti di questa trasferta tu e i tuoi compagni? Sì, è andato tutto bene. Avete anche preso il premio come squadra che ha avuto i migliori risultati come squadra? Sì, abbiamo lavorato tutti bene. Invece per quel che riguarda il tuo futuro, che corse ci sono e che cosa c'è per questa stagione per te? Spero di continuare così e di vincere ancora. Invece come è andato questo scorcio di iniziali di stagione, quante vittorie e come è andato? Per ora una vittoria, poi tanti piazzamenti, però ho buttato via tante gare. E quindi dov'è che devi migliorare secondo te? Nella testa.